Calignaia 29 agosto 2019 Bel clima settembrino, permane nella zona di Livorno della costa labronica Mare calmo come un olio, acqua calda Una bella giornata di sole che però non brucia più Perché ormai non ha più la forza di luglio e delle prime settimane di agosto Peccato che nel mare e nella baia vi fosse un cospicuo numero di meduse rosa a cipolla Particolarmente pericolose che era un continuo nel toglierle e un continuo nell'arrivare Un saluto